Io cerco sempre di scansarla, ma è una delle domande che mi fanno più di frequente in assoluto. Qual è la tua macchina fotografica preferita in assoluto? Ebbene, nel corso di questo video non andrò a dirvi qual è la mia preferita, però andrò a farvi un conteggio spannometrico di quali sono state le fotocamere che ho utilizzato maggiormente nell'anno appena terminato, ovvero il 2023. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e qualche volta anche di video. Infatti sono qui a farvi un contenuto in cui facciamo una sorta di body count delle mie fotocamere, mie ma non solo mie, quindi quelle in mio possesso e anche quelle che mi sono state mandate, prestate, noleggiate o quant'altro. Prima di cominciare io come sempre vi ricordo di mettere un bel like a questo video e di iscrivervi al canale, così non rischiate di perdervi gli argomenti futuri e le mie risposte in formato shorts verticale ai commenti in cui mi fate delle domande. Vi invito pertanto a farmi delle domande nei commenti se questo o altri argomenti suscitano il vostro interesse. Ma partiamo subito con la nostra classifica. Ora, andremo a fare un conteggio dei miei corpi macchina preferiti in base a quanto li ho utilizzati nell'anno appena terminato. E probabilmente Canon EOS R7 vince a mani basse, perché questa è la fotocamera e videocamera che ho utilizzato sempre per fare i miei contenuti video. Quindi l'ho utilizzata per fare video per il canale, l'ho utilizzata per fare video per i clienti. Diciamo che nel corso dell'anno corrente, se dovevo fare un video, questa era la mia primissima scelta. Per cui, primo posto in assoluto Canon EOS R7 con il 24-105 STM, lente che adesso ho in qualche maniera non mandato in pensione, ma un attimino messo da parte, perché in questo momento sto utilizzando il 35mm per sfocare maggiormente lo sfondo. Vi lascio linkato in card il video sull'unboxing di quest'ottica. Al secondo posto viene, come sempre, Canon EOS 6D prima versione. È una fotocamera che io ho comprato quando è uscita, quindi l'ho acquistata praticamente subito. È stata la mia primissima full frame, io ho cominciato la mia avventura a livello professionale con Canon EOS 6D. È uscita tanti anni fa, non vorrei dire una stupidata, ma credo che sia una decina di anni. La uso ancora, la uso ancora con grande successo e con grande soddisfazione, perché è una macchina che mi ha sempre dato quasi tutto quello che mi serve. Non è velocissima, non è un fulmine di guerra, però ancora oggi io la uso per un buon 60% dei lavori che faccio. Quindi è una macchina che nel bene e nel male viene sempre con me. Ora, per cosa si può utilizzare Canon EOS 6D? La si può utilizzare ancora anche nel 2024, ve lo assicuro. Io la utilizzo per fare ritratto, quindi quando faccio fotografia corporate e in particolare per studi di avvocati. Mi sono capitati tantissimi studi di avvocati di recente. Quindi fotografia corporate per aziende, avvocati ma anche altro, con il 2470 o con il 24105. Una favola assolutamente perfetta. L'ho utilizzata tanto per fare fotografia di interni con il 1635. L'ho utilizzata anche per mio diletto, per fare fotografia di viaggio, fotografia di architettura. Quindi ha un bel range di utilizzi. È una macchina secondo me anche abbastanza versatile. Sicuramente non la consiglierei per fare sport, però diciamo che ci si può fare quasi un po' di tutto. Subito dopo in classifica troviamo Canon EOS 80D. Una fotocamera che io acquistai all'epoca per fare quello che sto facendo con R7 adesso. Infatti sono tutte e due APS-C, sono fotocamere che non sono troppo diverse. Non fosse per il fatto che una è reflex e l'altra è mirrorless. Io mi trovo molto meglio a fare video su mirrorless e mi trovo molto meglio a fare foto su reflex. Per cui l'80D l'avevo presa inizialmente per fare video. Adesso c'è stato uno switch perché adesso io sto usando R7 per fare i video. E quindi l'80D l'ho passata al reparto foto. Quindi adesso ci sto facendo fotografia. In realtà c'è stato anche uno step intermedio di cui vi dovrei parlare. E andiamo allo step successivo nella mia classifica che è Canon EOS R. Canon EOS R è una macchina che io inizialmente avevo acquistato come mia primissima mirrorless, prima mirrorless full frame, e l'avevo acquistata per fare prevalentemente video. Perché è una macchina con lo stesso sensore della 5D Mark IV, una macchina che io uso per fare fotografia in certi ambiti, non è prima in classifica ovviamente, è a livelli bassi perché non la uso tanto. Però ho acquistato EOS R per affiancare una mirrorless per fare video. Ovviamente essendo EOS R una macchina un po' acerbina, immediatamente quando è uscita R7 ho preso R7 e ho usato R7 per fare video e mi trovo molto meglio su R7 di quanto non mi sia trovato su Canon EOS R. Però a quel punto Canon EOS R l'ho passata nel reparto foto, proprio come l'80D. Quindi entrano delle mirrorless, finiscono a fare video, quello che stavo usando prima per fare video finisce a fare foto. Ora, Canon EOS R è una mirrorless, però secondo me non è molto adatta a fare video. Nonostante l'immagine sia buona, però è poco versatile, soprattutto sul 4K ha un crop di 1.8, che è una cosa insopportabile. Quindi mi trovo molto meglio col crop di 1.6 su APS-C, a questo punto è di meno. Quindi Canon EOS R passata nel reparto foto, quest'anno l'ho usata con grande soddisfazione, con il 14-35 mm di Canon. L'ho usata esclusivamente per fare foto di interni, foto di architettura e foto di viaggi. Fatemi sapere se questi argomenti vi interessano, perché sto pensando di fare dei video dedicati proprio a questi argomenti sulla foto di interni, ne ho già fatti. Sto pensando più che altro alla foto di viaggi, per cui fatemi sapere in un commento se vi può interessare. Ovviamente Canon EOS R non è un fulmine di guerra, anzi, mi pare di ricordare che è una delle macchine con il rolling shutter più disastroso di tutta la filiera Canon, e molto lenta come acquisizione, molto lenta come buffer. Insomma, è una macchina che non è assolutamente pensata per la velocità. Io me ne frego, perché tanto io la utilizzo in degli ambiti dove la velocità non mi serve a niente, faccio delle fotografie prevalentemente statiche, il 60% delle volte le faccio su tre piede, quindi proprio della velocità non me ne frega niente. Quindi io mi sono trovato benissimo con questa macchina, perché è lenta, è abbastanza intuitiva, perché è mirrorless, quindi ha i comandi veloci, però è lenta ad acquisire, però io mi sono trovato bene, perché tanto facendo delle cose statiche è andato tutto liscio come l'olio. Prossima posizione abbiamo Canon EOS 7D, che io utilizzo abbinata al 100 mm macro. Ovviamente utilizzo questa combinazione per fare ritratto, ho fatto un po' di ritratto quest'anno con questa macchina, anche se non tantissimo. La utilizzo per fare eventi, perché io non ho delle lenti particolarmente lunghe, non ho teleobiettivi, non ho il 70-200, non ho, sì, ho un 70-300 della Sigma, una delle poche ottiche di terze parti che ho preso mille anni fa, non la uso mai, perché è un f4.5 che finisce a f8, quindi è più buia di una caverna, e quindi non la userò mai, credo. L'ho usata un paio di volte per fotografare la luna, è finita lì, non credo che la userò più. Faccio anche fatica a rivenderla, perché è quotata veramente pochissimo sul mercato dell'usato, quindi me la tengo lì, che non si sa mai, però senza troppo entusiasmo. Detto questo, essendo il 100 mm macro l'ottica di qualità più lunga che ho, io spesso e volentieri la utilizzo per fare eventi, quindi la utilizzo su APS-C, così non è un 100 mm, ma è un 160, e diventa la combinazione più lunga che io possiedo, quindi la uso spesso per fare eventi. Devo dire che abbinata alla 7D, che ha una messa a fuoco veloce e fulminia, e disabilitando le funzionalità macro, ha una messa a fuoco che se la cava, ha uno stabilizzatore che mi permette di giocarmela, e quindi l'ho utilizzata con successo in più di una circostanza. Prossima posizione, a questo punto abbiamo Canon EOS M50, la mia piccola mirrorless tascabile, che uso ogni tanto per fare video, la uso poco per fare foto, perché ho di meglio per fare foto, quindi la utilizzo prevalentemente per fare video, o per fare B-roll, o cose del genere. Comunque merita anche lei il suo posto in classifica, perché comunque l'ho usata quest'anno. Proseguiamo nella nostra classifica, e troviamo finalmente Canon EOS 5D Mark IV, una macchina che io ho usato poco quest'anno, perché non la uso sempre. La utilizzo in certi contesti specifici, quando so che può servirmi quel livello di dettaglio, quella risoluzione, quel file bello malleabile. Quindi magari quando devo fare dei lavori artistici, dei lavori per una band musicale, per esempio, che so che poi vorranno tonnellate di post-produzione, è diverso. Quando io faccio delle fotografie corporate per un ufficio di avvocati, io so benissimo che la foto quella è, mi hanno approvato la luce, mi hanno approvato tutto, so che non ci saranno cambiamenti. Non è una foto artistica, quello è, quello rimane. Invece quando fai foto per un progetto artistico, per una band, sai già che vorranno stravolgere, che vorranno colorare in maniera diversa, che vorranno scurire delle parti che prima erano illuminate, schiarire delle parti che prima erano in ombra, e quindi lì mi fa comodo avere un file più grosso e più lavorabile, sia in termini di risoluzione, perché poi magari vogliono stampare anche su, magari che ne so, formato vinile. Io non lo so se faranno il vinile, so che fanno sicuramente il CD, il digipack o il jewel case, però se dovessero voler fare il vinile, io gli fornisco un formato con cui comunque possono fare anche il vinile. Per esempio, questa è la prima cosa che mi viene in mente, fatto sta che non l'ho usata tanto, e quindi nonostante sia la mia macchina preferita, sta in un punto abbastanza basso della mia classifica di utilizzo nell'anno 2023. Procediamo e troviamo la EOS 700D, che io utilizzo con il 50 mm 1.4. Questa è una macchina che ho usato poco, ma perché l'ho usata in contesti ben specifici? È una macchina che io utilizzo come muletto, ma con grandissima soddisfazione, perché è una macchina, secondo me, molto furba. È una macchina che mi dà un'ottima qualità d'immagine, che mi dà tutti i megapixel che mi servono, perché sono 18, quindi ci posso fare un sacco di cose. L'ho utilizzata per fare un po' di ritratto, poco, e tanto fotografia di prodotto e still life. Quindi è una macchina che mi ha dato tanta soddisfazione, purtroppo non ho fatto tantissimo still life e ho usato un po' quella e un po' la 70 con il 100 mm. Quindi questa macchina l'ho usata poco, però comunque rimane sempre in classifica. Nelle posizioni più basse troviamo la EOS 550D, che ho usato molto poco, perché la uso per fare macro estrema con il 65 mm, quello con l'ingrandimento da 5x, è una lente molto specializzata, l'avrò usata due volte quest'anno, quindi l'ho usata veramente molto poco. Però la stessa macchina la utilizzo anche ogni tanto con il 10-18 mm per fare le cose più disparate, per fare B-roll piuttosto che per fare altro. L'ho usata poco, ma comunque l'ho usata, quindi finisce in classifica. E siamo alle menzioni speciali, perché a questo punto vi devo parlare di iPhone 15 Pro, che non è una fotocamera volendo, però è un device che ho usato. Io ho usato l'iPhone 15 Pro per fare degli shooting anche per dei clienti nel corso di quest'anno. Vi lascio linkato da qualche parte un video dove vi faccio vedere sia la qualità video, sia la qualità foto di questo telefono. L'ho utilizzato per fare degli shooting veri, che poi sono finiti sui siti dei clienti, in certi contesti e per certi clienti, ovviamente non per tutti. Però menzione d'onore, perché pur non essendo una vera fotocamera, l'ho usato. E quindi menzione d'onore per questo device. Un altro device di cui vi parlo, e questo ve lo faccio anche vedere, è la Insta360 ONE X2. Ve la faccio vedere semplicemente perché ce l'avevo lì sullo scaffale a portata di mano e non dovevo tirarla fuori da nessuno zaino. Questa è la mia fotocamera e videocamera 360. Menzione d'onore, perché l'ho usata veramente pochissimo nel 2023. Lavoro accesa una volta e mezzo, però l'ho usata. Anche qui non è proprio una vera e propria fotocamera, è un device carino con cui si possono fare dei giochini, però l'ho trovata divertente anche quest'anno, l'ho usata anche quest'anno e quindi finisce in classifica anche quest'anno. Una macchina che mi sto rendendo conto, è possibile nel 2023 io abbia usato veramente pochissimo, forse non l'ho neanche mai accesa e questo è veramente una cosa che mi dispiace, me ne rammarico, è la 5D Mark II. E' una macchina che io tengo, non la darò mai via, la 5D Mark II si tiene, è un cimelio e la uso perché comunque la uso, però nel 2023 è possibile che io non l'abbia mai usata, il che è veramente un peccato, buon proposito per il 2024, usare quella macchina, perché comunque è una macchina che a me è sempre piaciuta e mi ha sempre dato soddisfazione. In questo momento ha sul 1740 e forse è per questo che non l'ho mai usata, perché sto usando la 6D con il 1635. Quindi l'anno prossimo gli monto un'altra lente e vediamo se riesco a utilizzarla un pochettino di più, perché è un peccato non usarla e lì funziona benissimo e se anche non dovesse funzionare più la porto in assistenza e me la faccio sistemare, perché quella me la voglio comunque tenere. In coda vi parlo di fotocamere che non sono mie e quindi per forza di cose le ho usate meno. Andiamo per ordine. Abbiamo Canon EOS R5 che ho affittato una volta per fare dei video. Abbiamo Canon EOS R6, stessa cosa, l'ho affittata una volta per fare dei video. Dopodiché abbiamo la Lumix S5 IIX che mi è stata mandata in prova da Panasonic. Vi lascio in card da qualche parte i video dedicati a quella fotocamera e videocamera perché ho fatto una serie di video per far vedere il corpo macchina e le ottiche, le impostazioni e cose varie. Quindi sono tutte macchine che avendo avuto in prova o noleggiate o cose del genere non ho potuto utilizzarle tanto. Quindi finiscono a margine, non sono neanche in classifica, sono proprio in coda. Però volevo comunque parlarvene perché sono comunque macchine che ho utilizzato quest'anno. A questo punto direi, non mi dilungo oltre, vi chiedo di farmi sapere in un commento se questo tipo di contenuto vi può interessare se volete un episodio anche sulle ottiche che ho utilizzato di più nel corso dell'anno. Fatemelo sapere come sempre in un commento, vi ricordo anche di iscrivervi così non vi perdete le eventuali risposte in forma di shorts e video verticali brevi ai vostri commenti. Un like a questo video e parimenti cosa gradita. È stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.